Buonasera, buonasera dal vostro Johnny Dorelli, non ho capito perché ridete, siete dolcissimi, mi ricordate un frutto esotico, anche lui dolcissimo, mango, non ho capito perché ridete. Nella mia città c'è una casa bianca, con un gligi nei fiori e sale, sale su. Scialala, la luce mi attraversa, quanto male fa, ma nel parco si muove già, una prezza che pentina il prato e si allarga felice, la apri e l'à nell'infinito va. E' qui che ci sono le donne nude, che questi uomini come vedono le donne nude diventano tutti barbari, barbari come Attila, che guardò gli unni e disse, e gli altri? E in quel momento lì arrivò Tozzi che disse, gli altri siamo noi. Non sono stato mai più rosso di così, è notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori, quando si risvegliano, si rivestono, quando... Buonasera, 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 ma cosa, ma cosa, ma cosa devo dire? Sono dieci giorni che non parlo più con mia moglie, non voglio interromperla! anche se la Sandra è sempre la vita mia, come dice Minghi! Vita mia, non sappiamo più afferrare e maneggiare Questo amore che svanisce e scuscia via Ti sei intristita e poi Poi ti sei stranita, non dici più Che per il tempo sei tu Signori e signori all'ascolto, buonasera dal vostro Bruno Pizzul E devo dire, scusate un attimo, ho una piccola interferenza, un rumore in cuffia E devo dire, e vediamo che, mi sembra appunto che, cosa succede, Maurizio Mosca? Ma come si fa a escludere un giocatore come bisogna essere vicini? Non dico, come si fa vicini? Ma sicuramente, subito Vialli l'abbiamo escluso, poi è stato subito riconfermato Però devo dire appunto che se stiamo insieme ci sarà un perché Come dice Riccardo Cocciante, vai pure Se stiamo insieme ci sarà un perché Vorrei riscoprirlo stasera Se stiamo insieme qualche cosa c'è Che ci unisce ancora stasera Mi manchi sai, mi manchi sai Complimenti, torna nella stiva